Nico, amore mio, allora hai capito? Domani mattina passo a prenderti alle nove e ti porto nel mio appartamentino. Oh, ma questa sta a sentire? Oh, non ti preoccupare, un'americana non capisce l'italiano. Sai, tutte le mie amiche hanno l'appartamentino, ci portano il loro ragazzo per fare il... come si dice? Ah, scommetto che in un appartamentino dove non c'è mai nessuno. È vero. Eppure mi piace tanto fare il come si chiama. Eh, senti un po', Amaiasù. Sì? Ma che porti questo come si dice, come si chiama? Beh, sai, io mi vergogno a dire certe parole. Oh, Nico, ci pensi che domani mattina sarò tua? E ci penso, ci penso. Sapessi quanto me lo dar come si chiama a me? Nico, però bisogna essere prudenti. Io sono fidanzata, guai se rimanessi incinta. Ricordati, prima di fare il come si dice, devi mettere l'impermeabilino il come si chiama. E te credo, se no poi lo becchiamo tutti per come si dice. Allora siamo d'accordo per domani mattina? Siamo d'accordo, eh sì. Chi essere tu? Beh, io sono uno che prima stava con Miss America e mo' sto finito con Miss Universo. E lei da dove viene? Io Chicago. Ah, sì? Beh, mi ha fatto avere un'idea, mo' ce l'ho vado pure io. Oh. Permesso.